Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi misureremo lo 0-100 di questo diavolo italiano. Secondo voi ci metterà più o meno tempo della RS3 a 35 Mbps? Non serve dire nient'altro. Sigla! Bene ragazzi, siamo qui nel Lamborghini Huracan Evo. Amos farà da pilota e quando vuoi puoi partire vediamo quanto tempo ci mette a fare lo 0-100. Pronti? Sì, ho caro. Porca miseria ragazzi. Cioè è stata una, come si dice, reazione spontanea. Mamma mia. Adesso ci fermiamo, riprendo il cuore in mano e vi dico il tempo. Solo un attimino, scusate. Come avete appena visto mi sono rifigliato un attimo. 3 secondi e 32. Al momento lei è la più veloce di questa serie. Se avete una macchina più veloce nel 0-100 non esitate a contattarmi. Secondo me ci abbiamo due a batterla. Iscrivetevi, commentate, condividete. E come al solito, che roppa! Iscrivetevi, commentate, condividete.